Buongiorno, sono Giusy, ho fatto l'intervento qua a Blue Eyes con il dottor Di Giacomo, devo dire che è stata un'esperienza molto positiva, di circa 20 anni che portavo gli occhiali e adesso riesco a vederci da lontano, ho risolto anche il problema dell'astigmatismo senza occhiali, è sicuramente un'esperienza estremamente positiva, riesco anche a vedere da vicino senza dover mettere occhiali da vicino, devo dire che da lontano l'unica cosa, certe luci vedo un pochino di aloni intorno, ma un disturbo sicuramente tollerabile, per ora riesco a guidare, non ho nessunissimo problema.